caro maestro ma il mio ruolo com'è com'è? è l'unvigliore del protagonista ma parla molto? più che altro è un personaggio di espressione ah meglio meglio ecco perché ecco vi devo confessare io avrei un leggerissimo difetto di... bub... 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 avrei? mi va di mangiare? ma veramente avevano mangiato manco contanti vedi certo io la aspetto al bar ma cos'è ma però non cucarda sotto il banconico mentre la straboccia fai entrare tutti i punti rimani secchi eh, ora vuoi entrare la signorina buongiorno buongiorno buonasera buonasera, ciao a tutti 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 ciao ciao vaga riguardo l'attriccia Sì, oggi, adonanza io, fai una brutta figura, io, con calma, piano piano, tieni il raso da bello di dosso, tieni il mozzo del gambo, sei un ampio gommolo, e da voi dire la cadena, a vedere se sapete, e in bocca al lupo, eh? Grazie.